Grazie Il muro che cosa fece? Se le prese con gli uomini forse da subito gli alberi perché sapeva che gli alberi erano lo spirito di questa città e ce ne erano molti, erano sacri addirittura per la gente di Milano e gli ha fatti segare uno dietro l'altro e poi ha cercato... Per venire da solo in quel comune, da solo, le partali entra lì con... Grazie di essere stati qua e se c'è ancora bisogno noi siamo presenti, come cittadini, come voi. Poi se c'è da fare qualche manifestazione a Genova per un ponte o qualche cos'altro ricambierete e dovrete farlo a Genova. Grazie a tutti, grazie, grazie per il canto, grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto. Mi è accostata come Leonardo Che bella Milano L'isola della moda Stazione Garibaldi